Musica Ancora un furto al negozio Tutto Bici di Lavis, rubate e poi recuperate 18 biciclette. I ladri invece sono scappati. Manuel Codignone. È la terza volta che accade. Già in marzo e in aprile il negozio Tutto Bici era stato preso di mira da ladri di biciclette. In un caso il furto era stato portato a termine, nell'altro solo danni alle vetrine. Anche stavolta era l'una di notte, sono entrati. Usando un furgone come ariete hanno sfondato la porta e nel tempo proprio di due minuti ci hanno portato via di sotto biciclette, le più belle. Circa 41.000 euro il valore dei mezzi rubati. Immediato l'allarme ai carabinieri con la segnalazione, grazie alle telecamere che hanno ripeso la scena, del furgone usato come ariete. In questo caso però c'è un lieto fine. Grazie a questa segnalazione c'è stata anche la professionalità di una pattuglia di agenti della polizia stradale e dell'autostrada che hanno individuato un furgone e hanno avuto proprio l'intuito di capire che poteva essere quello e sono riusciti a recuperare la rifurtiva. I malviventi sono scappati via però abbiamo almeno qualcosa in mano per poter cominciare delle indagini. Le indagini della polizia proseguono ma dai tre malviventi scappati nelle campagne roveretane al momento nessuna traccia.